Ci spestiamo ora sul territorio, in particolar modo in Veneto, dove la Corte dei Conti ha promosso la gestione della finanza pubblica. Soddisfazione da parte del Governatore Luca Zaia, di cui andiamo a sentire un'intervista realizzata in occasione dell'Assemblea federale della Lega Nord a Mestre. Presidente Zaia, lei sostiene che da questa Assemblea federale debba uscire una progettualità per la Lega? Direi che è fondamentale dar risposte alle istanze dei nostri cittadini e queste risposte non possono che venire da un'azione amministrativa importante, che è quella dei nostri amministratori, ma che anche deve essere dettata dalla concretezza del fatto che poi queste proposte siano leggibili, cioè i cittadini abbiano anche modo di misurare l'effetto di quello che stiamo facendo. C'è stato un modo di misurare già quello che sta facendo la Regione Veneto, per esempio dal punto di vista della tutela degli imprenditori. Molti imprenditori si sono suicidati, uno ha anche un'ultima casa in questi giorni, però ha avuto molto successo anche il vostro numero che avete attivato. Ha avuto successo il progetto inoltre che dà utenza oggi in sei mesi a 116 imprenditori che comunque presi dalla depressione, dalla difficoltà e della crisi economica hanno chiesto aiuto, ma sono anche misurabili tutte le altre azioni che noi stiamo facendo. I 9 miliardi di euro investiti appunto con la finanziaria regionale per le imprese, piuttosto che ad esempio, me lo lasci dire, gli ospedali aperti di notte. Quello era un obiettivo, abbattere le liste d'attesa e lo abbiamo fatto a prendere gli ospedali di notte. A questi tavoli si è parlato anche di turismo e lei è intervenuto per una norma che ha penalizzato il turismo veneto contenuto nel decreto del FARA. A che punto è il suo ricorso? Che noi con molta autonomia abbiamo presentato una legge alternativa a quella nazionale. Direi che questo è il vero segnale che si dà. Quando Roma sbaglia noi ci muoviamo autonomamente. Dicono che non è legale, improvino ad impugnarla. Gli imprenditori sono con noi. Cosa prevedeva? Lo ricordiamo, no? Equiparava in pratica il turismo all'aria aperta alle strutturazioni delle case? Ma prevedeva fondamentalmente di applicare le norme urbanistiche alle case mobili, alle roulotte, che significa paralizzare un comparto che vale circa 20 milioni di presenze turistiche in Veneto, un comparto importante, un comparto che dà lavoro a 13 mila addetti. Un'ultima domanda. Questa assemblea si è svolta anche con lo sfondo, diciamo, in vista il congresso della Lega Norda. Io penso che si debba fare nel momento in cui il segretario Maroni decide di non dare più seguito alla sua esperienza. È un segretario sul pezzo che segue il partito, però è altrettanto vero che è impegnato dalla partita importante della regione. Da governatore penso che lui abbia fatto la scelta migliore, dopodiché spero sia un giovane ad occuparsi del nostro partito.